Buonasera, ben ritrovati, ci siamo, le otto in punto, quindi tra qualche minuto vivremo una nuova estrazione, è la prima di questo mese di marzo, quindi in bocca al lupo a tutti voi, ciao, buon lavoro al nostro Lio, ciao! Buonasera, ben ritrovata, buon venerdì sera a te in studio, buon venerdì sera Marco, soprattutto buon venerdì sera a tutti voi, le vincite appunto del... non te la senti? No, vado via! Va bene, allora noi continuiamo a parlare, che va bene lo stesso! Ci sono già alcune ruote, quindi dai, dai, parla! A tra poco! Perfetto, a tra poco, intanto io rimango con i nostri amici, andremo a vedere qualche altro, ha concluso, ecco! Eccomi qua! Fatto! Ci ho messo qualche secondo in più, perché ho chiesto in portale al costo di un... quello che è questa prima informazione, informazione super ristretta, valida domani sera, quindi già tra meno... Bene, allora ringrazio con Marco già tutti coloro che hanno... Bene, allora due terni... Vedere la ruota nazionale... Allora, a grande richiesta, anzi a grandissima richiesta... E allora consultate... Vediamo il simbolotto, ecco, stiamo infatti, infatti! Buona serata, domani ci vediamo di pomeriggio, eh! Ok!